Questo fabbricato che secondo me è di pregio e forse per le caratteristiche che ha Architettoni è l'unico a Pesaro perché è molto bello, intanto va detto che la struttura è assolutamente intatta, non ci sono problemi di stabilità. Poi è molto bella perché questi mattoncini perfettamente conservati hanno la caratteristica di essere di due colori e le finestre sono ad arco, poi c'è questa torre in mezzo bellissima e quindi è chiaro che ristrutturare questo fabbricato conservando la facciata che secondo me come ho detto è assolutamente conservata, però comporterebbe un guadagno inferiore perché buttare giù e ricostruire è chiaro che è molto più semplice, si spende di meno e ci si impiega molto meno tempo, però poi secondo me riveste le caratteristiche di una, fra virgolette, speculazione edilizia perché si fanno degli appartamenti. Questo viene dai piani di ristrutturazione, io naturalmente non ho gli atti del Comune ma è una cosa che è stata approvata ed è prevista pure questa demolizione, però secondo me fino a che l'operazione non viene portata a compimento ci sono ancora e c'è tempo e modo per poter porre un rimedio. Mi ha fatto piacere che si sono mossi sia a livello partiti, non mi interessano le diatribe politiche, io sono intervenuto proprio come cittadino, ma anche Italia Nostra che mi risulta sta raccogliendo le firme sta interessando la sovrintendenza perché contrariamente a quello che si diceva questo fabbricato ha più di 70 anni e quindi secondo le norme attualmente in vigore andrebbe tutelato. E poi un'altra cosa che non capisco, questa differenza fra questo palazzo e il palazzo dell'Enel che è qui vicino, che ha delle caratteristiche non analoghe ma simili nel senso che è in mattoncine ma è molto di meno pregio e fra l'altro è messo anche male. Mi sembra, così ho sentito, poi non ho la conferma, che è stato deliberato di mantenere la facciata, il palazzo dell'Enel, ripeto di meno pregio, mentre questo andrebbe abbattuto. Quindi mi pare una cosa che non regge, insomma io chiedo che le forze politiche senza far polemiche intervengano a partire dal sindaco Ricci per poter porre appunto come dicevo prima un rimedio perché è una struttura che merita di essere salvaguardata. Siamo a 200 metri dal teatro Rossini, siamo in pieno centro storico, cioè buttata giù questa struttura non l'avremo più, non avremo più questa tipologia urbanistica a Pesaro e questo a me come cittadino, ripeto, dispiace molto. Grazie a tutti.